Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie, quelli della settimana che si è appena conclusa. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti finanzia e mercati finanziari. Questa è Buonanotte mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io risparmio, come sempre sono Pasquale il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come ogni lunedì Buonanotte mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa. Parliamo di mercati, economia e finanza e notizie importanti che possono aver avuto un impatto sui nostri investimenti e sulla nostra vita sociale. Ne parliamo come sempre in maniera completamente distaccata dando numeri e non sensazioni e cominciamo subito. Fra le notizie più importanti di settimana la prima è sicuramente che il gigante degli indici Standards & Poor ha affermato che andrà a rimuovere le azioni russe quotate o domiciliate in russa, compreso quelle negoziate tramite i certificati di deposito americani all'interno dei suoi indici azionari standard prima dell'apertura delle negoziazioni del giorno 9 marzo. Standard & Poor's Dow Jones ha affermato che eliminerà anche la Russia dalla sua designazione dei cosiddetti mercati emergenti, emerging market, dato il suo deterioramento dei propri mercati classificandoli invece come mercato autonomo. Questo significa che le società russe nel loro insieme dovrebbero passare attraverso una nuova completa valutazione ad un certo punto per poter essere prese in considerazione e per una delle tre classificazioni che sono quelle classiche degli indici mercati sviluppati, emergenti e di frontiera. La decisione potrebbe ancora drenare ulteriormente gli investimenti esteri all'interno delle società russe dal momento che gli indici SP500 e Dow Jones sono utilizzati da molti fondi comuni di investimento ed ETF soprattutto americani per costruire i propri portafogli. Quando una società viene rimossa da uno di questi indici significa che quei fondi basati sugli indici non acquisteranno più azioni di quella attività provocando in genere un enorme e preponderante calo dei prezzi delle proprie azioni. La seconda notizia, Tesla ha ricevuto il viaribile accondizionale per la spropria Gigafactory tedesca vicino a Berlino. Questo è successo venerdì affermato allo Stato di Brandenburgo ponendo fine a mesi di ritardo per la costruzione di un impianto storico da 5 miliardi di euro. La Gigafactory che è fondamentale per le ambizioni dell'amministratore delegato di Tesla Elon Musk per poter sconfiggere il leader di mercato europeo Volkswagen. Questa Gigafactory avrebbe già dovuto aprire i propri battenti l'estate scorsa. La più grande casa automobilistica tedesca ha il sopravvento in Europa con una quota del 25% delle vendite per quanto riguarda gli EV, i veicoli elettrici, contro il 13% di Tesla. Il premier dello Stato di Brandenburgo, Dietmar Wojtke, ha dichiarato in una conferenza stampa che lo sviluppo ha segnato un grande passo verso il futuro aggiungendo che lo stabilimento di Tesla sarebbe un importante motore industriale tecnologico per la Germania e per questa regione. Finora sono stati assunti circa 2.600 dipendenti dei 12.000 lavoratori previsti per questo stabilimento. Questo è quello che hanno affermato i sindacati il mese scorso e Tesla è in trattative con numerosi fornitori di componenti locali della regione per potersi procurare il più possibile appunto localmente riducendo i tempi di attesa, i costi di attesa e aumentando la forza lavoro in Germania. La terza notizia è che Boeing ha piani preliminari per aumentare la propria produzione della sua famiglia di 737 narrow body a circa 47 veicoli al mese entro la fine del prossimo anno poiché il produttore di aerei statunitense cerca di estendere la sua ripresa dalle crisi successive. Almeno questo è quello che hanno dichiarato due persone che si dice abbiano familiarità con la questione. Dopo aver ridotto la produzione principalmente a causa della pandemia, Boeing e il rivale europeo Airbus stanno registrando una maggiore domanda per i loro jet passeggeri con esempi produttori di aerei che hanno aggiunto accordi accattivanti ai loro ordini delle ultime settimane. I piani di produzione di Boeing cambiano e sono influenzati da molti fattori e i dubbi del settore sono già vorticosi. Sul fatto che la catena di approvvigionamento sarà in grado appunto di andare a soddisfare i piani di aumento aggressivi di produzione da parte di Boeing ma anche di Airbus in particolare in Europa. I produttori in particolare sono alle prese con la carenza di madreopera, di materiali, dei loro bilanci inneboliti sia a seguito della pandemia e alla sovrapposta crisi di messa in sicurezza a terra del 737 MAX. Inoltre c'è anche la crisi ucraina. Boeing ha detto a fine gennaio che stava lavorando per cancellare un inventario di 335 veicoli 737 MAX accumulati in seguito a due incidenti mortali che hanno messo a terra l'aereo per venti mesi. Ha stimato che parte di questi jet sarebbe stata consegnata entro la fine del 2023 e per cui venduti entro la fine di quell'anno. Andiamo a parlare di numeri che continuano ad essere impattati dalla triste situazione dell'invasione da parte della preservazione russa che ha dichiarato guerra nei confronti dell'Ucraina. Indici americani che continuano la loro permanenza in un territorio purtroppo negativo. Questa settimana nessun indice americano tiene il verde e la situazione è anche stata tamponata da alcuni giorni di verde altrimenti sarebbe stata peggiore. Il peggiore fra questi è il Nasdaq 100 che lascia un 2,79% sul terreno seguito dall'alattica, dal Russell 2000 che lascia un altro 2,39%. Vado a dire che il Nasdaq da inizio anno ha perso quasi il 15% alla diata odierna alla registrazione di questo video. Meglio o per meglio dire meno peggio il Dow Jones e lo Stana nel PUR 500 che ha perduto entrambi attorno l'1,30%. Le borse russe sono chiuse altrimenti sarebbero state sotterrate ma per i listini aperti i peggiori sicuramente sono la TX austriaco che ha lasciato quasi un meno 13,6% e il nostro povero Futsimib che perde quasi un meno 13%. L'Eurostox 50 la figura pienamente ai mercati europei in toto dato il fatto che lascia un meno 10,44% in totale. La maggior parte degli listini europei se non tutti hanno chiuso praticamente una settimana pessima. Di conto ci sono stati alcuni indici che hanno dato delle ottime performance in questa settimana che si è appena andata a concludere. Il Kadawool arabo ad esempio è quello migliore e ha consegnato un più 3,37% ai propri investitori mentre il Dow Jones New Zealand quasi un 2% positivo e il Beast 100 turco un 1,96% di segno positivo. Per quanto riguarda invece i settori peggiori e migliori del panorama statunitense questa settimana ha comunque offerto spunti di guadagno in alcuni settori che hanno segnato rendimenti interessantissimi anche se non a doppia cifra mentre ci sono state questa settimana settore fortemente in rosso con alcuni che sono praticamente sprofondati e per cui in una doppia cifra negativa. I rendimenti migliori si registrano nel settore oil and gas con quasi un più 10% però quasi non è 10% seguito dal metals e mining con un più 8,6% e poi il multiline retail con un più 7,5%. I settori legati al rosso sono le airlines con un meno 14% auto components con quasi un meno 14% e il settore consumer finance che perdono entrambi assieme al settore auto totale un meno 11%. Come sempre andiamo a chiudere con le notizie sul mercato cripto che questa settimana che è passata è stata piuttosto indecifrabile, molto decordelato dal mercato americano non come nelle ultime settimane molto probabilmente perché molte transazioni per i paesi in guerra, Ucraina e Russia, sono passate appunto da questi asset. BTC praticamente piatto in leggero territorio positivo ed Ethereum che perde un meno 3,70%, BNB in territorio positivo con 1,64% mentre il CRO perde un 3,9% in pratica non si capisce niente. Tra le grandi capitalizzazioni continua il successo di Terda che guadagna anche questa settimana appena passata un altro 13,50% alla data di sabato 5 marzo. Se andiamo invece a guardare l'indice nel suo complesso, il total crypto index inclusivo del PTC ha segnato un meno 1,80% alla data del 5 marzo quando sto registrando questo video. Bene eccoci anche oggi arrivati alla fine di questo mini aggiornamento dei mercati, della settimana che si è appena conclusa, settimana che ci ha portato sempre di più all'interno di una triste guerra, quello che leggevamo sui libri di storia. Uno schifo assoluto che porta solo sofferenza ai più deboli e spero sinceramente che si concluda presto. Spero come sempre che questo contenuto sia stato apprezzato e di tuo gradimento se così fosse. Ti chiedo sempre il favore di farmelo capire lasciando un commento ed un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Inoltre se sei nuovo sul canale ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa perderti nessun contenuto successivo. Buonanotte mercati torna lunedì prossimo come ogni lunedì per le notizie aggiornate dei mercati finanziari e noi invece ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Ciao! 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 Grazie a tutti.